buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce questo non è il mio mondo non è il nostro mondo questo non è il mondo di chi pensa non è il mondo che chi è animato da buoni sentimenti questo non è un mondo adatto a chi ha a cuore il rispetto nei confronti del prossimo questo non è un mondo adatto a chi ha sensibilità e chi ha tatto questo è un mondo davvero apparentemente civilizzato ma in gran parte animato da bestialità probabilmente non più cruda e sanguinolenta però c'è una violenza nascosta una violenza tra le righe che in pochi denunciano questo è un mondo davvero in cui non c'è più spazio e forse non vi è mai stato questo spazio per quelle persone che non sono disposte a calpestare gli altri in nome del proprio ego questo non è il mondo adatto a chi ha una propria autonomia di pensiero a chi vuole cercare di rimanere se stesso questo è un mondo superficiale questo è un mondo brutto questo è un mondo malato questo è un mondo dove le tue qualità quelle vere non ti sono riconosciute assolutamente anzi le tue qualità vengono dai più dei difetti questo è un mondo in cui i difetti oggettivamente parlando sono esaltati questo mondo in cui non c'è minimamente il senso del buono il senso del vero il senso del bello domina infatti il falso il brutto e il cattivo ovviamente il mondo è complesso non si può banalizzare semplificando troppo non esiste solamente ciò che è esclusivamente cattivo e ciò che è esclusivamente buono nessuno alla pretesa di diventare perfetti quello che auspico non è un uomo perfetto è semplicemente un uomo migliore dentro di noi dovremmo avere semplicemente questa missione nella nostra vita semplicemente una missione un'unica idea di successo sapete qual è diventare giorno dopo giorno persone un po migliori senza ovviamente ansia da prestazione no con rilassatezza con calma senza auto giudizio distruttivo però avere come meta il miglioramento personale il problema qual è il problema tragico perché fin qui tutti potrebbero essere d'accordo con me è quello che si intende per miglioramento essendo un mondo superficiale si ritiene migliorativo tutto ciò che è esterno da te quello che è il tuo tenore di vita in termini prettamente materiali quella che è la tua popolarità quindi stai migliorando se impari a fare più cose stai migliorando secondo molti se riesci a guadagnare di più stai migliorando se attorno a te ottieni più consenso in qualsiasi campo parlando di youtube sto migliorando se il mio canale cresce in termini di numeri nella vita più di tutti i giorni al di fuori dei social e di internet sto migliorando se uomo donna che io sia vedo che l'altro sesso è maggiormente interessato a me ho più pretendenti divento più popolare allora vuol dire che vi è in atto un miglioramento ma di cosa stiamo parlando? ma dov'è la dimensione dell'essere umano? quello che conta veramente dov'è? tu stai migliorando sei nel tuo nuovo presente sei un incontro più piacevole rispetto a prima per gli altri migliorare vuol dire migliorare per ciò che concerne le qualità dell'essere ragazzi ma cercate davvero di riflettere quando incontrate qualcuno che cosa è che conta veramente? il fatto che questa persona sia sincera con voi quindi in un qualche modo vi possiate fidare il più possibile che questa persona nel momento in cui si rapporta con voi non abbia una concezione strumentale del rapporto è importante che voi non siete degli oggetti da usare per un tornaconto e quindi di vero e di profondo non c'è veramente niente in quel legame è bello confrontarsi con persone in grado di fare dei ragionamenti poi si può anche errare però è in grado poi di cambiare anche idea quindi mentalità aperta è bello incontrare persone amorevoli punto e quindi che cosa significa il miglioramento? cercare di mettersi e di mettere un po' più in discussione delle cose quindi di imparare a riflettere a pensare un po' di più impara a diventare più gentili più dolci più delicati perché l'altro si imbatte in te già la vita di tutti è complicata tu non devi essere un elemento in più di appesantimento della vita dell'altro e allora se tu riesci a vivere in questa direzione riesci a riflettere in maniera sempre più critica riesci a essere sempre più gentile certo che hai anche a cuore il tuo di benessere però non lo fai di scappiati degli altri perché primeggia la tua volontà di non voler drengiare il prossimo e quando avviene cerchi di rimediare cerchi di migliorare appunto di non farlo più di farlo sempre di meno poi ci sarà la giornata storta inevitabilmente quando qualcuno si rapporterà in maniera sgradevole con te perché può capitare anche tu darai forse non il meglio di te perché a volte entrano in gioco delle dinamiche irrazionali ci si può arrabbiare però cerchi anche di migliorare in questo senso di arrabbiarti sempre di meno o di farlo in maniera diversa eliminare se le hai pretese di vendetta diminuire se ce l'hai l'invidia perché capisci semplicemente che sono cose che non servono a nulla ma purtroppo nessuno vi insegna che questa è la vera missione tutti parlano solamente di lavoro inteso come strumento mediante il quale diventare persona di successo realizzazione professionale realizzazione professionale quanti soldi porti a casa che casa compri che macchina hai siccome è una bella casa un bel lavoro una bella macchina allora otterrai otterrai anche più consenso da parte dell'altro sesso soprattutto se sei uomo non rendersi conto che poi quei rapporti non sono animati dall'autenticità e dalla profondità ma quella persona sta con te principalmente per quello che hai non per quello che sei ma come si può vivere in un mondo dove conta ciò che hai e non ciò che sei e sei valutato per ciò che hai e non ciò che sei e in questo teatrino grottesco le persone capendo che le cose funzionano così ambiscono a dimenticarsi e tralasciare sempre di più la dimensione dell'essere pertanto non conta l'essere non conta le qualità che stai elencando tu conta avere e allora io cercherò di avere sempre di più perché comunque io voglio il consenso voglio l'applauso e poi qualcuno ora mi dirà ma non è vero che viene esaltato solamente quello che uno ha semplicemente viene elogiato e valorizzato colui che con le proprie capacità e con il proprio impegno riesce a raggiungere certi risultati viene esaltato colui che si realizza professionalmente grazie a questa realizzazione riesce a costruirsi un proprio futuro non è più dipendente dai propri genitori va a comprarsi una casa va a costruire una famiglia io non critico queste cose nulla contro chi compra una casa chi va a vivere da solo chi non è più dipendente dai propri genitori quello che sto dicendo e che lo dico da una vita è semplicemente questo ma chi se ne frega è della casa della non casa del lavoro o del non lavoro dei soldi che porta questo lavoro che siano 1000 2000 3000 euro o 200 euro al mese quello che conta è che persona sei ragazzi sei buono sei gentile sei educato formalmente no sostanzialmente se una persona come dicevo prima piaceva di incontrare perché non sei chiuso di mente non sei giudicante in questo mondo di giudicanti che non sanno niente di te beh ma parlano 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 inventandosi un te che non esiste molto spesso beh allora ragazzi di che lo stiamo parlando è un miraggio incontrare una bella persona bella e invece cosa si associa al bello in questo mondo guarda lì che lavoro che ha guarda lì che casa che ha guarda lì non vi è più a casa dei suoi vincente guarda quello là guadagna poco mamma mia 200 euro al mese guadagna a malapena arriva 1000 euro oppure ancora a casa con i suoi mamma mia che perdente che fallito senza minimamente interessarsi di quello che c'è dentro poi attenzione uno può non avere nessuna entrata e vivere ancora a casa con i suoi genitori e essere un perfetto idiota io non elogio chi non lavora non è realizzato professionalmente e chi è a casa con i suoi non l'ho mai fatto semplicemente non mi interesso del fatto che tu lavori o non lavori se sei indipendente economicamente mantenuto o alimentato vado a vedere cosa c'è dentro di te invece no qui si elogiano aspetti solamente materiali ma che schifo è addirittura se tu non lavori non sei lì in generale con il copione della società secondo alcuni non è neanche titolo di parlare beh questo vuoi parlare tu che non lavori dimenticandoci questo è un mondo osceno sotto tutti i punti di vista e la maggior parte delle persone lavorano quindi significa che il lavorare essere indipendenti economicamente non è che di per sé è garanzia di virtù umane perché se ci fosse questa associazione allora potrei anche capire non c'entra niente ma niente più assoluto e anche parlando di comportamenti estremi che siano omicidi disturbi violenze non è che vengono perpetuati da persone tutte al di fuori da copione della società cioè magari ci sarà anche qualche senza tetto o qualche persona che non ha il centro naturalizzazione professionale che compie dei crimini ma molto spesso sono persone inserite perfettamente nel contesto domenante della società quindi non c'entra niente in nessun caso quello che è il valore della tua persona purtroppo è un mondo davvero schifoso indegna dove non mi piace il termine fallito e vincente soprattutto utilizzati in una maniera così discriminante però sostanzialmente questo è un mondo in cui coloro che sono considerati vincenti sono in realtà dei falliti e coloro che sono considerati dei falliti mediamente sono dei vincenti solamente che io ho abbastanza le spalle larghe nonostante in anni sapete quante me ne hanno dette per un mio vivere in maniera diversa rispetto a quello che è la conformità dei comportamenti medi sapete quante me ne hanno dette quante volte mi hanno giudicato ci ho perso il conto ogni volta rimango sorpreso non tanto perché emotivamente abbia delle ripercussioni ma perché è scioccante trovarsi dinnanzi alla superficie delle persone e quanto siano dei burattini dei burattini completamente burattini incapace di andare oltre io però dicevo le spalle grosse quindi resisto storicamente resisto e non mi butto giù hanno tentato più volte di uccidermi ma io non cado però so che molte persone sono più fragili di me magari hanno un bell'animo un cuore buono una mente ricca però molto molto fragili e non tutti riescono a rimanere a galla si rischia di affondare si rischia di deprimersi si rischia di di morire questo è un mondo boia è un mondo assassino ragazzi è un mondo assassino è un mondo di criminali attenzione è un mondo di criminali questo e io sono qui da dieci anni con questo mio spazio su youtube per cercare di darvi una mano per dare una mano a quelle persone belle che magari sono molto fragili e rischiano di soccombere in un mondo di orchi io cerco di darvi con la forza per non cadere non sei sbagliato tu attenzione non c'entra niente quella che è la massa quello che è il pensiero dominante se sono mille su mille e cinque a pensare in un modo non è detto che quei mille in quanto maggioritari abbiano ragione solo che so che non è facile perché ha una base molto insicura è che io sono qui per darti un po' di sicurezza non sei sbagliato tu la voce dicono una voce in questo senso poi magari ci sono anche persone che mi seguono che hanno una forza simile alla mia e resistono però traggono beneficio a confrontarsi con una persona perché io mi ritengo una persona e mi piacciono le persone in questo mondo non ci sono persone ci sono delinquenti criminali che a loro volta sono vittime attenzione il più giudicante il più umanamente deprecabile in realtà è anche una vittima vittima di se stesso in primis quindi da parte mia non c'è disprezza nei confronti di nessuno però siccome è un mondo in cui vige una certa mentalità materialista eticamente parlando io non posso che autonominarmi voce di quei pochi che sanno pensare che sanno amare e che non vogliono arrendersi a questa tristezza collettiva tutto qui facciamoci forza scaldiamoci il cuore diamoci la mano social catena risorta facciamo risorgere quell'antico progetto del grande Giacomo che tra l'altro essendo figlio di nobili nel suo caso non lavorava eppure il più grande della storia italiana se non della storia dell'umanità un abbraccio a tutti commentate condividete se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci oppure in alternativa puoi aderire alla mia pagina patreon per farlo è semplicissimo apri la mia pagina patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese il gruppo whatsapp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti grazie a tutti grazie a tutti